Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social e del canale youtube. Prima di andare a parlare dell'argomento di oggi vi ricordo di mettere sempre il segui, il segui sui social e di iscrivervi al canale youtube per avere sempre delle notizie nuove. Che cosa è successo? Mentre la Rai a Naspa non parte ancora con i suoi programmi, anzi c'è molta incertezza sul palinsesto annunciato in precedenza, Mediaset è partita, è partita con uomini e donne di cui poi andremo a parlare dopo, dove ha stravinto Maria De Filippi, quindi per Silvio Berlusconi ha perso, è stato distrutto ed è partito anche il grande fratello, io di quello oggi vorrei parlare, perché il mondo gay massacra Alfonso Signorini, anzi rinnega Alfonso Signorini per l'assenza della comunità LGBT nel grande fratello. È stato chiamato pelato infame, bigliacco, rinnegato, bastardo, gliene avete dette di tutti i colori, poi tutti i particolari, per chi volesse vedere il video, stanno nel video. Perché ve la siete presa con un vostro compagno, voglio dire, o amico, o simpatizzante, o naturalizzante, o nature, gay come voi? Perché non c'è qualcuno come l'anno scorso, non c'è la trans, non c'è la lesbica, non c'è il gay, non c'è la bisex, eccetera. Infatti l'anno scorso il programma è stato un programma trash. Vi posso assicurare, prima di andare a parlare di Alfonso Signorini nel dettaglio, per farvi capire chi è, e quanto fa per voi, mi riferisco ai gay e alla comunità LGBT, che sono miei carissimi amici, e io ne ho tanti amici, e sono con i vostri diritti civili e con le vostre battaglie, che dal 70 portate avanti e dovete sempre più portare avanti, però nella decenza, nella decenza, è quello che forse è stato il messaggio, che voi non avete capito, di per Silvio Berlusconi. Non sono necessarie paillettes, vestitini, vestitelli, orecchini, orecchioni, tutte queste, non esistono. Dovete essere persone normali, dovete vivere la vostra omosessualità, la vostra sessualità diversa dall'etero, in maniera normale, basta pagliacciate. E questo il messaggio di per Silvio Berlusconi. Poi lasciamo stare la storia che Grande Fratello vuole raccontare storie, sono storie, vi posso garantire che Alfonso Signorini ha provato nelle sue liste di mettere all'interno esponenti del mondo LGBT, voleva mettere Ivan Cattagno, non è stato possibile, voleva rimettere Scialpi, non è stato possibile, voleva mettere Alessandro Cecchi Paone, insieme al compagno, non è stato possibile, vi faccio altri nomi se volete, tutti esponenti del mondo LGBT, anche qualche trans voleva mettere, quindi, e non è riuscito perché le liste venivano cancellate, non era più, infatti l'avete visto quando ha condotto l'intervento, era infacciatissimo, perché non è più lui, non conduce le trasmissioni con i termini bonazzo, bonazza, che bella, che bello sesso, quanto sesso, non può dirlo, deve fare il professorino. Alfonso Signorini ha 59 anni, ha avuto anche una malattia molto grave, ha avuto la leucemia nel 2011 che ha combattuto con una forte terapia di chemio, quindi grazie a Dio la cura ancora, perché quella non è tenesci, la cura ancora, però sta bene, è laureato in lettere classiche, ha dichiarato la sua omosessualità alla sua mamma, mentre sua mamma e suo papà stavano a colazione, la mamma è svenuta praticamente, ha avuto una storia, a quanto pare, dichiarata con Valeria Marini, quindi a lui piacevano anche gli uomini, poi si dichiarata ok e ha da tanti anni, dal 2004 che sta con Paolo Galimberti, è un politico 55 anni, di Forza Italia, tesoriere di Forza Italia nella regione Lombardia, tra l'altro è socio di Euronics, la sua famiglia ha Euronics, quindi non è l'ultimo arrivato, sta con lui dal 2004, quindi vivono insieme, si lasciano, vivono insieme e dovrebbero sposarsi forse entro l'anno prossimo, quindi subito dopo, alla fine del Grande Fratello. Ma secondo voi, amici miei gay, amici miei della comunità LGBT, che l'avete chiamato o pelato infame, l'avete chiamato o vigliacco, traditore, eccetera. Questo guadagna 50 mila euro a puntata. Alfonso Signorini, 59 anni, che entra nel mondo Mediaset nel 2010 e presenta il programma Calispera, vi spiego, dove c'era Pamela Prati, Elena Saltarelli e Melissa Satta, completamente nude, andava in seconda serata però, perché ha vissuto sempre di questo, ha diretto il giornale Chi, fino a marzo del 2023, l'ha diretto per tantissimi anni, ha diretto il tv Sorrisi e Canzoni, vi posso raccontare tutto quello che volete, non è l'ultimo arrivato, è stato l'autore, ha scritto molti programmi, verissimo, per esempio l'ha scritto lui, è entrato anche a scherzi a parte, ha collaborato con Striscia la notizia, ha collaborato con tanti altri programmi di Paolo Bonolis stesso, quindi poi ha fatto, chiaramente, ha fatto l'opinionista all'Isola dei Famosi, la grande fratella, adesso lo conduce lui. Questo guadagna 50 mila euro a puntata, alla fine di febbraio, prima di marzo, avrà guadagnato quasi 2 milioni e mezzo di euro. Voi ditemi, voi della comunità LGBT, è certo che vale il pudore, vale la morale, tutto quello che voi volete, ma una persona che fa il professionista, che è filo aziendale, come appunto Alfonso Signorini, è filo aziendale, e fa di tutto per mettere nel grande fratello presenze della comunità LGBT, e non ci riesce, perché Piazzino e Berlusconi gli strappa le liste, chiaramente lui sottostà a quale sono le regole del grande fratello. Avete visto voi stesso che è impacciato, che non è lui? Non è quello Alfonso Signorini. Alfonso Signorini è attivo, ti fa la battuta, gli hanno messo anche la guardia del corpo, Cesare, buoni amici, una giornalista con le palle, voi dite che c'entra lì? E hanno messo quella, poteva mettere un'artista, poteva mettere una cantante, una influencer, ha evitato le influencer, che hanno rovinato tutti i programmi, hanno distrutto tutti i programmi, le influencer, vanno levati di torno, prima cosa, ha tolto tutto il trash possibile, quelle che si inventavano le storie, tipo per esempio la Taylor Mega di turno, adesso con Flavio Obbiatore, adesso con un altro maschio, e poi si fidanzano una femmina, poi dice che è bisessuale, poi dice che è transessuale, non si capisce niente, ho fatto un esempio tanto per farlo. Uno guadagna tanti soldi, amici miei, si guarda in tasca, però protegge sempre, rimane sempre un gay, difende sempre i vostri valori, la vostra identità sessuale. Vai a toccare Alfonso Signorini sul mondo gay, lui ama il mondo gay, avete sbagliato ad attaccarlo in questo modo, dico io, infame, non ha fatto lui le liste, le liste le ha fatte una persona terza, perché quando gli ha presentato le prime due o tre liste, che per Silvio Berlusconi ha strappato, perché il programma di punta, il programma di punta del grande fratello, di Mediaset, sarà il grande fratello, e i 3-4 puntate che farà Checco Zalone. Queste saranno le due, secondo me, il summit, il massimo, che potrà avere quest'anno Mediaset. Poi saranno delle fiction, gli altri programmini, se ritornerà, spero, Gerry Scotti, voglio dire, Paolo Bonolis con il suo trash, con il suo trash, non è stato toccato, poi ne parlerà anche di questo, perché è azionista, dimenticavo che Signorini è anche socio con la Mondatori dell'Agency Talent, lui trova volti nuovi, trova giovani da lanciare nel mondo del cinema, dello spettacolo, della web, della tv, eccetera. Non è l'ultimo arrivato, non è assolutamente un pelato infame, è uno che ama la televisione, è uno che adesso deve fare il professorino, questo gli è stato chiesto, infatti sta facendo male. Gli Odens sono stati 3 milioni di persone che hanno guardato il grande fratello, il 23,1%, ma è andato meglio Montalbano su Rai 1. Pensateci amici, pensateci. Alla prossima, vi voglio bene!